Gli imprenditori italiani sono dentro un loop, il loop purtroppo del poco guadagno. Quella situazione nella quale vorresti tirare fuori più soldi dall'azienda, ma poi puntualmente arrivi a fine anno che ti rendi conto di aver fatturato e lavorato tanto ma guadagnato poco, purtroppo. Voglio guadagnare di più, ma non voglio regalare più soldi allo Stato italiano. Voglio guadagnare di più, ma nel mio settore è difficile. Voglio guadagnare di più, ma non voglio complicarmi troppo la vita e il business. Lascia che ti dia un consiglio, veloce, con i ma non si costruiscono grandi aziende. Il modo per riuscire è capire quali sono gli ostacoli, cioè quali sono i tre principali fattori per cui gli imprenditori guadagnano poco. Capirlo!